E parlando ancora di Peugeot si è concluso un altro campionato italiano rally con la vittoria, il decimo titolo del campionato italiano rally appunto, di Peugeot Italia e vediamo il servizio del rally due valli che ha appunto consagrato la squadra del Leone. Le 10, dopo una stagione di vertice Paolo Andreucci e Anna Andreussi vincono il tricolore piloti 2017. Per i portacolori del Leone è il decimo titolo della loro carriera e si confermano l'equipaggio più titolato della storia del campionato italiano rally. Ucci, Paolo Andreucci, si cuce sul petto la sua prima stella assieme alla 208 T16 che si è dimostrata ancora una volta molto competitiva ed affidabile e dalla squadra corse di Peugeot Sport Italia in cui ogni componente è stato determinante per questo ennessimo grande risultato. Una stagione da incorniciare per Peugeot Italia che ha vinto tutti i campionati a cui ha preso parte, una grande cinquina che premia lo storico impegno del Leone nei rally italiani. Campionato costruttori assoluto, campionato piloti assoluto, campionato junior, campionato costruttori due ruote motrici, campionato piloti due ruote motrici. Paolo Andreucci ha dichiarato Che dire, sono stracontento, è stata davvero dura e complicata ma ce l'abbiamo fatta. Un gran bel lavoro di squadra che ci ha supportato davvero tanto, grazie a tutti. Un grosso grazie anche a Pirelli per la qualità dei suoi neumatici ma anche per il suo grande supporto e assistenza in ogni occasione. Sono stati davvero il partner ideale. Questa vittoria è frutto di un lungo lavoro iniziato a fine della stagione scorsa, quando abbiamo deciso che volevamo riprenderci il titolo e ce l'abbiamo fatta. Sono emozionato.